Su quello che è Fimbers, Fims è una società nata nel 2008, ma si è in Padua e si occupa di informazione finanziaria e un toraggio personalizzato alle persone interessate ad apprendere le metodologie per fare i trading online. Abbiamo due sale trading, una su Palva dove il master trader è Nicola Terafini che è qui presente e una su Cavalcare dove il master trader è l'amico Paolo Serafini che poi avrete l'occasione di conoscere e che sono comunque due nomi molto conosciuti in ambito trading. Fimbers è nata quattro anni fa, ha al suo attivo parecchi eventi e molti corsi di formazione, più di mille persone che sono transitate tramite la nostra città di 20 corsi e nel suo processo di crescita è arrivata recentemente al primo nuovo sede a entrare nel capitale sociale e in partnership tra di una sim di Pia Reggio che è la Pate One Sim, che qui è rappresentata dal ministro delegato Nicola Zeretti che dopo vi dirà alcune parole su quello che fa Tate Point e quelli sui seguiti che ho. Vi direi che non mi voglio dilungare molto anche perché abbiamo dei numeri uno oggi ed è giusto che lasciamo spazio a loro, anche perché immagino che tutti li attendete profondamente. Quindi direi che fare due parole in funzione su quello che è Tate Point a Luca Lazzeretti e poi facciamo la parola agli amici Pia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Lavorava praticamente quasi per sé per i propri trader e da qualche anno ha allargato questa possibilità a diversi trader e nella sua evoluzione ha trovato un'ottima unione con il gruppo Finpest perché per noi la formazione e il training professionale sono due cose che non possono essere scisse ma devono andare di pari professe e quindi abbiamo rafforzato tutti i nostri servizi prendendo anche tutta la parte di formazione. Come dicevo da poco abbiamo fatto introdotto delle nuove tecnologie che ci permettono di avere delle piattaforme all'avanguardia tra cui Sfera e ScalpTool che sono entrambe però ottimizzate tramite degli investimenti tecnologici particolari che ci permettono di essere più veloci di altri anche a parità di strumento. Quindi possiamo dire il pregio che molti trader soprattutto di farvi traggi e avventaggi stretti ha trovato un'ossessibile vantaggio perché gli permette di essere sempre primo sul mercato. Quindi ora questo è un po' il concetto generale poi magari a fine giornata offriremo anche a chi ha partecipato al corso un'eventuale promozione per chi possa essere interessato però lascerei la parola ai nostri trader e quindi vi gustano un po' l'operatività. Grazie a tutti.